Secondo l'esperto di gossip ex dama telefonerebbe alla redazione con l'obiettivo di rientrare nel cast dal quale manca dal 2021 A pochissimi giorni dalla prima registrazione dell'edizione 2024 fratto 2025 di Uomini e Donne sui social network si è diffusa una voce che riguarda un'amata ex dama Tramite le sue storie di Instagram, infatti, Alessandro Rosica ha svelato che Valentina Autiero chiamerebbe spesso la redazione del programma sperando di essere reinserita nel parterrover dal quale manca dal 2021 L'indiscrezione su Instagram Le riprese di Uomini e Donne inizieranno il 28 agosto e sui social non si parla d'altro che dei veterani che potrebbero far parte del cast della nuova edizione Tra le storie che Alessandro Rosica ha pubblicato su Instagram questo sabato, ad esempio, che è quella in cui è riportato un retroscena su un ex dama che il pubblico del dating show ricorda molto bene Valentina Autiero continua a chiamare la redazione nella speranza di tornare, ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo La 41enne romana ha fatto parte del parterrover per tanti anni e la sua ultima apparizione agli Helios risale al 2021, quando decise di andare via in coppia con un cavaliere che aveva conosciuto poco tempo prima nel programma Le prime news sulla nuova stagione Non si sa ancora se l'indiscrezione di Rosica può essere interpretata anche come un'anticipazione di quello che accadrà tra pochi giorni negli studi di Uomini e Donne Quindi se Valentina rientrerà nel parterro oppure se la sua avventura del dating show si è conclusa definitivamente A quattro giorni dalla prima registrazione, però, Lorenzo Pugnaloni ha dato qualche news su quello che dovrebbe accadere dopo la pausa estiva Si parla di un confronto tra Gemma e Pietro, il cavaliere che ha frequentato durante le vacanze, e di un ennesimo chiarimento sotto i riflettori tra Ida e Mario Platano, inoltre, potrebbe scegliere di restare nel cast per cercare l'amore visto che lontano dalle telecamere non l'ha trovato Incerto, infine, è il futuro di Cusitore in trasmissione anche se da mesi si vocifera che la redazione potrebbe affidargli il ruolo di cavaliere dopo che è stato corteggiatore un anno fa Le discussioni con Gianni Sperti Tornando a Valentina i fan di Uomini e Donne sapranno che è stata dama per diversi anni e che in molte occasioni si è scontrata con uno degli opinionisti storici del programma Tra Autiero e Gianni Sperti, infatti, non è mai corso buon sangue e per questo hanno discusso spesso quando lei era ancora nel parterre del trono over La protagonista della trasmissione Mediaset è ricordata dal pubblico per i tanti interventi che faceva in studio, anche quando si parlava di altre persone e lei ci teneva a dare il suo parere su una vicenda che seguiva da spettatrice